Sanzioni troppo elevate previste nella tanto discussa legge numero 154 del 2016, mancanza di ammortizzatore sociale strutturato, maggiori tutele da garantire ai lavoratori per la loro sicurezza in mare, richiesta di aiuti dal mondo politico con incontri già prefissati. Sono solo alcune delle questioni e delle denunce portate all'attenzione di un'assemblea organizzata a Barletta presso l'ex Cinema San Francesco della Flai CGL e incentrata sulle problematiche vissute dai pescatori. Troppe le difficoltà per un settore che da anni sta facendo i conti con una crisi profonda. Il regolamento comunitario di fatto si è applicato così com'è e non ci permette di svolgere il nostro lavoro. Faccio un esempio abbastanza concreto, la maglia da 50 mm noi non possiamo utilizzarla nei nostri magli nel basso adriatico perché per un motivo molto semplice con un sacco da 50 mm la maggior parte delle specie presenti nei nostri mari che sono circa una sessantina, tante di queste sono di piccole dimensioni ma adulte, non riusciamo più a pescarle. La 154 invece è una legge che disciplina il quadro sanzionatorio per quanto riguarda la pesca in Italia. Siamo all'assurdo, le sanzioni vanno da 4.000 fino a 75.000 e poi per il pesce a spada e tonno si raddoppiano e possono arrivare anche fino a 150.000. Cosa chiedete allora oggi? Chiediamo prima di tutto che la legge 154 sia adeguata a quelle che sono le direttive europee e chiediamo se è possibile una sospensione del regolamento. I sindacati sono scesi in campo sostenendo con forza la causa dei pescatori. La Flai CGL ha così annunciato un imminente incontro che avverrà con l'assessore regionale Leonardo Di Gioia anche alla presenza del ministro per le politiche agricole Gianmarco Centinaio con l'obiettivo di rintracciare soluzioni volte a risollevare un settore ormai in ginocchio. Abbiamo anche chiesto un incontro che ci è stato dato dall'assessore Di Gioia della regione Puglia e al contramiraglio della direzione marittima. Certo non sarà una cosa che si potrà risolvere a breve termine perché comunque la legge è quella, la dobbiamo rispettare. Vediamo con l'assessore Di Gioia che cosa sia una soluzione, perché la soluzione al momento non c'è, perché le leggi sono quelle e bisogna comunque rispettarle. O ci piacciono o non ci piacciono, sono quelle e bisogna rispettarle. Dopodiché bisogna tener conto che comunque loro oramai a mare non stanno uscendo più perché, capite bene, ricevono una multa di 20-30 mila euro, significa che non basta neanche vendere il peschereccio per poter pagare queste sanzioni. Grazie. 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 Grazie.